Ancora fumata bianca per scongiurare lo sciopero dei dipendenti dell'azienda del trasporto pubblico locale di Reggio Calabria. Ieri in prefettura si è svolto il secondo tentativo per evitare la protesta proclamata dalle maestranze per il prossimo 20 aprile. I grandi assenti attorno al tavolo, proprio i più attesi, ovvero i rappresentanti del comune di Reggio e della regione Calabria. L'amministratore unico dell'ATAM, Antonino Gatto, che in questi lunghi mesi critici si è sempre dimostrato disponibile alla dialogo e fa autore della collaborazione, ha assicurato ai dipendenti che entro sette giorni sarà convocato un tavolo tecnico con sindacati e rappresentanti istituzionali. I lavoratori hanno acconsentito a questa settimana di attesa ma ribadiscono che la situazione è diventata insostenibile per loro e per le loro famiglie. I dipendenti dell'azienda di trasporto rivendicano le mensilità di febbraio e di marzo e vogliono risposte da Palazzo San Giorgio sui 470 mila euro ancora non erogati nelle casse dell'ATAM per il servizio di scuolabus già erogato e che non si è mai fermato. Intanto il 30 giugno scadrà il contratto di solidarietà ma i rappresentanti dei lavoratori hanno già dichiarato che non hanno intenzione di firmare il rinnovo.